e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi ragazzi oggi ragazzi è un sabato pomeriggio e sto partendo per il primo weekend in moto la meta è le cinque terre adesso vedrò un po come poi come mettervelo nel video facendo un po di strade abbastanza carine primo tratto lo farò in autostrada fino a fidenza da fidenza andrò verso la cisa che mi porterà alla spezia e dalla spezia appunto arriveremo nella località delle cinque terre e vi ricordo che è in liguria lì mi fermerò in qualche campeggio per pernottare e poi il giorno dopo farò appunto tutta la strada delle cinque terre per poi ritornare verso casa ma questo ve lo farò vedere penso nel prossimo video perché voglio fare una strada abbastanza bella che non ho mai fatto però dicono che sia una strada bellissima la mia idea iniziale era quella di andare verso nord verso la svizzera però visto che danno temporali quindi ho optato per questo giro che comunque era uno di quei giri che volevo fare da un po orario d'arrivo previsto penso che arriverò verso le 7 7 7 e mezza sperando di trovare qualcosa aperto per appunto qualche campeggio aperto per andare a dormire quindi adesso entrerò in autostrada vi saluto qua e ci vediamo dopo eri eccoci ragazzi guardate qua che panorama siamo in emilia romagna ho aspettato che le strade si facessero un po così un po più un po più aperte non so se stia sto già salendo sul passo della cisa ma non credo perché c'era su più di 30 chilometri prova che spettacolo stets wow appennino emiliano è la prima volta che faccio la cisa visto che le altre volte che volevo farla diluviava e avevo pensato bene di far l'autostrada non so se stia Grazie a tutti. Eccolo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso magari staccherò anche la telecamera, visto che non so ancora quanta registrazione posso fare con l'SD. E' un bel problema andare a cercare un posto dove dormire. E' la mano. Comunque vabbè, arrivo nei dintorni di La Spezia e poi andrò a cercare qualcosa. Visto che ho telefonato un campeggio diceva che aveva solo pochissimi posti. Ma vabbè, vediamo un attimo cosa si può fare. Se intanto spengo quando ci saranno aggiornamenti e se ci saranno magari delle strade un po' belle, vi aggiorno. Comunque ragazzi, passo dalla cisa, ho fatto l'ultimo tratto in autostrada, adesso siamo vicini alle cinque terre. Quindi, visto che me le voglio tenere per domani, adesso voglio cercare un campeggio. Cosa che sarà molto ardua. Guarda che sole, guarda che mare, ma ancora io non so dove andare. Ma che bello, che bello. Ma siamo vicini a Levanto. Però se dovessi trovare un bel camping, avrebbe un bel... Appena mi fermo da qualche parte magari chiedo, appena vedo un'anima a piedi... Tanto saranno tutti del loco italiani, spero. Guarda che mare, ancora io non so dove andare. Eccoci il campeggio trovato, ora monterò la tenda. La prima volta da quel tutto cascino. L'onorio delle macchino. L'onorio delle macchino. Si lo stia ci vedo, il pacco di farola che è piHE. Mancina le non sopra. Prendare questa vacuna per farola che s'apporti. Prendere questa macchino. Prendere questa macchina. Prendere questa macchina. ok tenda montata ora si va a mangiare ragazzi guardate che bella la tenda anche dentro col materassino che è spettacolo eccoci qua sul lungomare di levanto ragazzi ma che spettacolo eccoci qua